Benvenuti amici fantallenatori in un nuovo video per parlare oggi di bug di listone è uscito da un paio di giorni proprio il listone di fantacalcio.it e allora oggi lo andremo ad analizzare andando squadra per squadra a vedere quale giocatore è meglio da prendere al fantacalcio dai difensori ai centrocampisti agli attaccanti andremo a selezionarli uno ad uno e vi dirò quanti sono i bug di listone anche per quest'anno se ci sono alcuni già conosciuti altri invece sono nuovi e potrebbero essere interessanti andiamo subito sulla schermata di Fanta Lab e andiamo a vedere chi possono essere i bug di questa stagione 2023-2024 però prima ti dico lascia like e soprattutto vatti ad iscrivere sempre su Fanta Lab il link in descrizione perché è il migliore tool per il fantacalcio e ti prepara veramente in maniera eccezionale all'asta della nuova stagione quindi non perderti statistiche, indici di schierabilità che usciranno appena ci saranno le prime partite probabili formazioni come vedrai tra poco, confronti tra giocatori e poi per non farvi mancare niente anche le statistiche con tanto di media voto e fanta media ci sono sia per chi si abbona e fa il premium quindi avrà tante funzionalità mentre invece altre sono gratuite quindi andate a spulciare andate a vedere perché ve lo consiglio vivamente passiamo alla schermata e subito con l'Atalanta la prima formazione delle 20 di questa nuova stagione e direi immediatamente che i bug di quest'anno sono sicuramente Baccher, Colasinac e Zappacosta i tre difensori soprattutto Baccher e Zappacosta che giocano a centro campo considerate anche Mele che lo sapete fa l'esterno di destra quindi una probabile coppia tra Zappacosta e Mele potrebbe essere interessante mentre invece sulla sinistra occhio a Baccher e Colasinac perché Colasinac dovrebbe fare il braccetto di sinistra proprio nella difesa a tre per questa formazione direi basta perché sono loro quattro quelle più importanti non sono stati cambiati i ruoli e non ci sono giocatori che comunque potrebbero essere dei bug per l'asta a chiamata andiamo poi al Bologna, la seconda squadra qui direi assolutamente Orsolini che è rimasto C e attenzione anche a Ferguson perché giocherà più vicino alla porta in posizione di trequartista quindi molto avanzato dietro ad Arnautovic e come sapete Tiago Motta fa lavorare molto sporco soprattutto la prima punta e cioè Arnautovic a discapito proprio dello stesso attaccante e di conseguenza occhio anche agli inserimenti dei trequartisti come in questo caso Ferguson o comunque come Orsolini e attenzione anche con le spinte dei terzini però per quanto riguarda i bug direi assolutamente Orsolini e ci metto dentro anche Ferguson come vi ho detto andiamo poi al Cagliari di Ranieri e qui diciamo che come bug non c'è niente di eclatante se non Augello che è difensore e lo sapete tutti l'anno scorso nella Sampdoria quanto ha crossato e soprattutto quanti bonus ha portato in una squadra retrocessa è il terzo crossatore per cross effettuati dentro l'area di rigore nel nostro campionato quindi io lo considero un bug di listone da comprare al Fanta Calcio le mie fasce sono già uscite su Fanta Lab quindi mi raccomando per gli abbonati o chi ha premium con il mio link potete già scaricare le fasce Excel dei giocatori da top, semi top, prima fascia eccetera eccetera quindi mi raccomando ragazzi andate subito passiamo poi all'Empoli qui c'è uno solo e direi assolutamente Maldini perché è stato lì stato centrocampista lui che gioca praticamente lì davanti nella tre quarti di sinistra insieme a Baldanzi e Giasi per me potrebbe essere molto interessante preso a poco come quinto sesto slot da far girare in un centrocampo a tre o a quattro soprattutto nelle partite più semplici andiamo poi alla Fiorentina e qui i bug di listone beh non ci sono diciamo la verità a parte Biraghi e Parisi che possono essere interessanti con anche lo switch con la nuova funzionalità di Fanta Calcio che poi vi andrò a spiegare in un video specifico beh qui diciamo che di bug non ce ne sono se non Iconè che potrebbe essere interessante ancora listato centrocampista e gioca lì davanti in un 4-2-3-1 dietro all'unica punta che sarà o Cabral o Jovic poi con il Frosinone andiamo avanti qui nessun bug preponderante Pernazio è stato listato A e anche Caso è stato listato A di conseguenza sono due giocatori da ultimi slot forse Caso potete prenderlo anche come quinto slot ma senza spenderci tanto probabilmente proprio quest'ultimo è interessante perché batterà anche calci di punizione quindi tra il georgiano e l'italiano io andrei subito sull'ala di sinistra del Frosinone passiamo a quella più interessante ed andiamo al Genoa perché vi dico più interessante perché qui secondo me ci sono ben due nomi che possono farvi la differenza in un fantacalcio a 10, a 12, a 8 qualsiasi tipo di lega sia ci sono Aaron Martin che è stato listato difensore ve l'avevo detto in un video precedente per il passato che aveva avuto nel Mainz è giusto che sia stato listato difensore e attenzione perché gioca praticamente come esterno avanzato il giocatore spagnolo quindi per me è un bug di listone da prendere immediatamente stesso discorso per Gudmundson che come vedete è C e non A c'era stato nelle ultime ore la paura che potesse essere listato come attaccante e invece è stato listato centrocampista e di conseguenza da prendere immediatamente perché se davvero fosse il rigorista di questa squadra potrebbe portare tanti bonus e come vi ho detto in un video per me può fare anche una doppia cifra bassa ed è molto ma molto interessante andiamo poi all'Inter beh qui diciamo ragazzi che l'Inter in questo momento è una formazione che a me piace tantissimo dal punto di vista sia fantacalcistico sia calcistico e qui i soliti bug li conosciamo tutti da Di Marco sulla sinistra a Danfries sulla destra occhio però anche a Quadrado che nell'ultimo amichevole dell'Inter contro il Paris Saint Germain ha giocato abbastanza bene quindi attenzione perché magari in alcune partite un po' più semplici proprio mister Simone Inzaghe gli potrebbe dare fiducia poi per il resto c'è sicuramente Darmian e Cialanoglu nel mantra perché è stato listato come C ed M quindi è sicuramente un doppio ruolo che lo fa mettere in hype soprattutto in questa modalità andando avanti poi passiamo alla Juventus che diciamo ha un bug e un debug o meglio Chiesa è stato listato attaccante e di conseguenza perde tantissimo appeal al fantacalcio e andando un po' più in giù c'è UEA che è stato listato centrocampista sarebbe stato meglio difensore ma sicuramente come C UEA potrebbe essere molto intrigante da prendere in fase d'asta mentre invece per il mantra c'è Danilo perché come sapete ha il triplo ruolo e DS, DC e DD lo rendono veramente un super bug di listone e attenzione anche qui perché rischiate di pagarlo tanto ma secondo me ne vale la pena proprio per la sua duttilità nei moduli del mantra andando avanti troviamo poi la Lazio come vedete che ha due super super bug di listone che sono rimasti a centrocampo e cioè a sinistra Zaccagni e a destra Felipe Anderson che ve lo dico a fare da prendere immediatamente ma anche qui proprio per il loro ruolo attenzione a non andare oltre il budget prestabilito saranno richiesti tantissimo e di conseguenza potrebbero andare anche oltre a quello che vi siete già prefissati voi andando sempre in ordine alfabetico poi passiamo a Lecce e qui sicuramente rimane Gabriel Strefezza il giocatore brasiliano esterno di destra nel 4-3-3 di D'Aversa è interessante perché come sapete tutti batte i calci di rigore e quindi come centrocampista è sicuramente uno dei migliori bug insieme a Zaccagni e Felipe Anderson occhio anche al nome nascosto perché c'è questo Rafia che è interessante Corvino lo ha voluto fortemente e attenzione perché se lo riuscite a portare a casa con un budget risicato al massimo l'1% potete veramente fare un affare scusate il gioco di parole però veramente pensateci a prenderlo come settimo ottavo slot nel vostro centrocampo oh eccoci qua poi al Milan che in tanti lo aspettavate ne sono certo e anch'io sono stato con gli orecchi puntati sul listone il 31 di luglio perché stavo aspettando proprio i ruoli di Pulisic Ciuqueze che sicuramente in tanti fantallenatori stanno supervisionando ecco come avete visto Pulisic gli hanno dato la C e anche a Ciuqueze occhio perché veramente Ciuqueze secondo me sarà il titolare Pulisic la riserva occhio perché anche l'americano può giocare come trequartista quindi anche la duttilità potrebbe essere interessante però non vi fate la coppia l'andreste a pagare troppo e soprattutto perché se tante volte anche riuscite a farvela una coppia del genere è veramente ingestibile durante la stagione e poi per finire Reinders e Love to Sheik ovviamente gli hanno dato C quindi niente di particolare lo si sapeva i bug quindi rimangono Pulisic e Ciuqueze in questa formazione e ovviamente Teo Hernandez perché sappiamo quanto spinga su quella fascia sinistra da difensore da terzino andiamo avanti al Monza e vedete che anche qui non è cambiato praticamente niente Carlos Augusto gli hanno lasciato la D quindi difensore e super bug di listone come lo scorso anno il problema di questa stagione è che tutti lo conoscono e di conseguenza rischiate di pagarlo troppo io un colpino low cost ve lo voglio dire vi voglio fare un nome un po' particolare e cioè Colpani che poteva essere l'istata attaccante e invece è rimasto centrocampista questo giocatore può essere intrigante e addirittura si può prendere i calci di rigore a discapito di Petagna e di Caprari quindi occhio ragazzi a lui andiamo poi ai campioni d'Italia in carica e cioè il Napoli qui i bug purtroppo non ci sono più nel senso Varaskelia è stato listato come tutti si aspettavano attaccante e quindi lui è sicuramente un debug da questo punto di vista per me un bel bug di listone rimane sicuramente Politano che ha libertà di attaccare e soprattutto svaria molto sul fronte offensivo praticamente un attaccante aggiunto che però gioca centrocampista andiamo poi avanti alla Roma qui nessun bug se non Lorenzo Pellegrini che è interessante come centrocampista ma qui stiamo parlando proprio di bug di listone saltiamo la Roma e andiamo avanti l'unico forse che posso dirvi è Spinazzola che lo vedete è listato difensore ma praticamente gioca a centrocampo ah mi stavo quasi scordando ragazzi il Sharawi che tutti non si cagano di pezza che nessuno ne parla e invece in questo precampionato sta facendo veramente bene e lo sta provando proprio sulla corsia di sinistra parecchio avanzato José Murigno e come sapete ha già segnato un paio di gol quindi occhio a del Sharawi perché il ballottaggio ci sarà e la Roma farà l'Europa League proseguiamo questa speciale lista e andiamo con la salernitana di Paolo Sosa con il 3-4-2-1 del tecnico portoghese e i super bug di listone sono Candreva e Mazzocchi però qui c'è anche un giocatore intrigante che praticamente gioca in attacco ma è listato centrocampista e c'è Castanos attenzione al giocatore Cipriota perché veramente preso come penultimo d'ultimo slot vi potrebbe dare delle belle soddisfazioni visto che lui con Candreva sarà incaricato anche di battere calci di punizione e calci d'angolo siamo in conclusione ed andiamo con le ultime quattro squadre il Sassuolo di Dionisi beh qui ragazzi l'orienter rimane attaccante quindi diciamo che la formazione emiliana è forse quella con meno bug dal punto di vista di ruoli vista fino a questo momento gli unici che mi sento di consigliare sono magari Boloca e Volpato per il resto però non c'è veramente niente di eccezionale per quanto riguarda ovviamente il listone e i bug andiamo poi con la terz'ultima cioè il Torino qui per me interessanti sono Radonich che batterà anche i calci di punizione Bellanova Voivoda e Singo sono questi nomi bug di listone e che possono farvi la differenza perché vi dico in questa maniera perché lo sapete Juric adora far avanzare e far sovrapporre i terzini e di conseguenza Bellanova Singo e spesso vediamo anche Riccardo Rodriguez che possono fare cross possono portarvi assist quindi bonus interessanti dal punto di vista fantacalcistico per il resto ci possiamo mettere sicuramente anche Illich ma qui come vi dicevo stiamo parlando di bug e quindi io vi vado a fare questi nomi finiamo poi con l'Udinese penultima formazione diciamo che qui di nomi interessanti ragazzi ci sono Samarzic e Lovric ma non sono considerabili bug di listone soprattutto perché Samarzic se ne sta andando e dovrebbe arrivare tra poche ore all'Inter in questo scambio attenzione perché si parla anche di Fabian che dovrebbe arrivare in Friuli e prendere il posto anche in campo del Serbo concludiamo poi con l'Ella Sferona di Mr. Baroni e qui ce ne sono secondo me ben tre di bug di listone vale a dire Mbulà questo giovane molto interessante che gioca sulla tre quarti di destra Faraoni che in tanti scansano o neanche si ricordano che esista nella formazione scaligina ma è veramente molto intrigante e poi Josh Doig e ci ho fatto un video anche al riguardo proprio per i nomi nascosti e i nomi dimenticati per quanto riguarda i difensori ma non solo anche per i bonus in difesa e per il modificatore voglio fare proprio un nome finale e cioè Saponara io essendo tifoso della Fiorentina lo sapete che l'ho sempre adorato mi è sempre piaciuto e attenzione perché è allistato centrocampista ma quando sarà inserito dentro giocherà al posto di Lazovic o comunque giocherà molto avanzato sarà molto propositivo e probabilmente vedrà anche spesso la porta in una formazione come quella dell'Ellas di conseguenza pensateci bene a comprarlo a poco io ragazzi vi ringrazio per questa guida spero di esservi stato utile scrivete qui sotto nei commenti chi andrete a prendere di questi bug di listone e soprattutto ragazzi tra pochi giorni usciranno i portieri gli accoppiamenti intelligenti lo switch e che cosa è e come utilizzarlo per il fantacalcio e poi ragazzi cominceranno finalmente le prime live dove andremo a fare le simulazioni di aste e soprattutto confronteremo dei giocatori che voi vorrete prendere proprio al fantacalcio in questo inizio di stagione continuate a mettere like iscrivetevi e andate proprio da fantalab perché potrete vedere proprio tutte queste probabili formazioni quindi vi potrete studiare al meglio il vostro listone ciao ragazzi a presto e come vi dico sempre il fantacalcio non è solo un gioco viva la viva il fantacalcio ragazzi